E io devo avere un dialogo... Voglio mettermi al servizio di Napoli perché non riesco più a vederla in questo Stato. Così Gianni Lettieri, candidato sindaco al Comune di Napoli, durante la conferenza stampa di presentazione del suo programma elettorale. Dieci punti ben definiti che vanno dalla sicurezza al lavoro passando per l'ambiente e le politiche sociali. Idee proposte per cambiare Napoli raccolte dai suggerimenti dei cittadini. Queste sono le dieci sfide più importanti che sono venute fuori da un confronto con i cittadini, per cui da qui si parte e poi le cose da fare per Napoli, lo sapete, ne sono tante e tantissime, ma quello che mi fa specie è che sono l'unico candidato che parla delle cose da fare dagli altri e non ho sentito niente. E questa mattina, poco prima della conferenza stampa, Lettieri ha partecipato all'inaugurazione del cantiere di un nuovo centro commerciale a Salerno, progetto nato su sua iniziativa. All'inaugurazione ha partecipato anche il presidente della regione, Vincenzo De Luca. Lettieri, ha ribadito il governatore, sta facendo cose straordinarie. Da questo punto di vista c'è una similitudine anche con il lavoro amministrativo, in particolare il lavoro che riguarda il comune. Da segnalare anche la denuncia fatta da Lettieri del clima di tensione che si vivrebbe in città durante questi giorni di campagna elettorale. Alcuni giovani con la pettorina Lettieri sindaco, ha detto l'imprenditore, sono stati aggrediti da Balurdi. Due o tre giorni fa alcuni ragazzi nostri sono stati aggrediti. Oltre all'episodio di un mese e mezzo fa a Bagnoli è successo un altro episodio antipatico. Due o tre giorni fa i ragazzi che tenevano la nostra pettorina sono stati aggrediti. Quello che è successo sabato alla Valente, io non li temo, voglio che non ci sia violenza e che ci sia invece tranquillità in tutte le manifestazioni che facciamo sia noi che loro. Poco prima della conferenza di Lettieri, a pochi metri di distanza, il Movimento 5 Stelle presentava il suo candidato sindaco e la lista dei 35 candidati al Comune di Napoli. All'incontro erano presenti Luigi Di Maio e Roberto Fico che hanno così ufficializzato la candidatura del Brianzolo Brambilla a sindaco di Napoli. Ma ascoltiamolo ai nostri microfoni. Noi abbiamo un'idea di città che è una città inclusiva, accogliente, una città a misura d'uomo, una città dove i trasporti pubblici siano sostenibili, dove le persone possano sentirsi sicure. E questo vuol dire sia dal punto di vista della sicurezza intesa come controllo, sia dal punto di vista della sicurezza degli edifici, e quindi manutenzione e restauro degli edifici esistenti. Noi siamo per una riqualificazione dell'esistente e nessun nuovo costruzione. A margine della conferenza non è mancato qualche affondo da parte di Di Maio nei confronti del Partito Democratico. L'unica cosa che possiamo fare è invitare i cittadini a liberare l'Italia da questo partito non votandolo più e sostenendo un progetto come il nostro che porterà onestà e trasparenza nelle istituzioni italiane. Chiaro il riferimento di Di Maio al fatto giudiziario che ha convolto nelle ultime ore il leader del PD Campano, Stefano Graziano. Ma i cittadini campani come cittadini italiani, vedendo questo ennesimo scandalo, è logico che non voteranno il Partito Democratico. La mia unica preoccupazione è che si astengano, perché questi scandali, al di là del Partito Democratico, stanno provocando sfiducia nei cittadini italiani, che sono sempre più disgustati. Io gli chiedo di non astenersi, perché astenendosi non faranno nient'altro che favorire ancora di più questi partiti, che comunque un loro zoccolo duro ce l'hanno e abbiamo visto come lo fanno questo zoccolo duro, come mettono insieme i voti.